L'ampliamento del suolo pubblico non verrà concesso a tutti e non sarà più gratuito come avvenuto lo scorso anno durante il quale l'amministrazione comunale di Fano era andata incontro alle esigenze delle attività economiche duramente colpite dalle chiusure e dal calo della clientela a causa della pandemia. A fare chiarezza è direttamente l'assessore Etienne Lucarelli. Si cerca di tornare alla normalità, assessore, per quest'anno quali sono le disposizioni? Le disposizioni sono state quelle di concedere gli spazi all'aperto, quindi di attuare una nuova deroga che è stata approvata dal Consiglio Comunale e nella deroga è previsto la possibilità ancora di concedere uno spazio di 100 metri quadri, la possibilità di evadere dalla prospicienza rispetto all'attività economica, cosa che era un limite che ha il nostro regolamento e quindi in realtà la possibilità di far lavorare le attività ce l'ho aperto perché ci siamo resi conto che la città è comunque più bella, più accogliente, piacevole, anche viva, visto che ci facciamo una serie di attività culturali che insomma la rendono veramente vive e partecipata. La deroga, ha precisato l'assessore, arriva fino al 30 aprile 2023, lo spazio in più sarà a pagamento e in questi giorni gli uffici sono a completa disposizione degli esercenti per tutte le informazioni del caso. Siamo consapevoli che in questi due anni è cambiata anche la mentalità di gestione quindi probabilmente insomma da novembre prossimo dovremo ragionare come amministrazione insieme al vice sindaco Fanesi, insieme anche all'assessore Cucchiarini, ai tributi dovremo ragionare anche come impostare questa nuova situazione che si sta creando della città perché ci rendiamo conto che alcuni spazi insomma sono veramente belli e accoglienti con i tavoli all'aperto. Non tutti però possono beneficiarne, faccio riferimento ovviamente a questi ultimi due anni. Ma allora c'è da dire che noi negli ultimi due anni in periodo Covid abbiamo cercato di concedere più possibile, infatti siamo arrivati perfino alla chiusura delle strade come parliamo ad esempio di via Battisti, via che ovviamente ha creato anche qualche problema agli albergatori e ai turisti che arrivavano nella città, però c'è da dire la verità che ci sono stati momenti dove le attività non potevano lavorare all'interno quindi ci è sembrato opportuno concedere lo spazio del marciapiede per poter lavorare e quindi lasciare i pedoni una parte della strada che abbiamo dovuto chiudere. Oggi ovviamente tornando a una pseudonormalità tutto questo non è più possibile, quindi stiamo continuando a cercare di dialogare con le attività per concedere degli spazi possibili. Tra l'altro più di una volta chiediamo un buon senso anche nella gestione degli spazi perché devono essere resi belli e consoni alla bellezza della nostra città. Stiamo cercando di concedere spazi ma ovviamente tornando alla normalità anche all'apertura delle strade e quindi non chiudendole come era previsto l'anno scorso.